Il giorno e la storia. Oggi è il 16 dicembre. 1944. Discorso di Mussolini al Teatro Livico di Milano. Ultima apparizione pubblica. 1987. Palermo. Aula Bunker. Si conclude il primo maxiprocesso alla mafia. 1942. Himmler ordina la deportazione di tutti gli zingari che vivono in Germania. Commenta il fatto del giorno Maurizio Molinari, direttore della stampa. Oggi ho deciso di parlarvi della rivolta del porto di Boston, da cui partì la rivoluzione americana. Grazie.